che cosa? che cosa? sono i했던 membragio di tornare no 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 credo che cosa? quando vedi la roba te la regalano no no non ci sonoиком non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono ci sono ma che preparazione Fanno le seghe Fanno lo scarico, tutti inciampano Tutti inciampano Fanno lo scarico Deve essere uno che fa le scarpe Ritacco Autocarrozzeria Franco Felice Mia gara Autolavata Caffetteria Ma c'è lì De Rosa Antonio Fanno più corto Ma i musicisti sono andati via 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 Dagli un po' di tempo che si possa leggere Se c'è un cazzo A concedere un maschile Pasqualebria Qua fuori E' già cambiato Con l'inficio Non si legge Andruia Palermo Siciliano Vabbè Dobbiamo dire la verità Mio papà è Calabria Mio papà è di Gioletà Qui ci tengo veramente dentro la terra di mio papà Eh 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 Il br